Un'anagrafe per registrare senza tetto e l'attivazione di un secondo bando per concedere buone spesa sono le due novità nell'ambito delle politiche sociali annunciate oggi dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. L'iscrizione anagrafica dei senza tetto è frutto di un protocollo d'intesa siglato dal Comune di Salerno con l'Associazione Avvocato di Strada Onlus. Il protocollo prevede lo svolgimento di attività di supporto per la preparazione e la formulazione dell'istanza di iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora. L'obiettivo è la creazione di un percorso condiviso diretto ad acquisire informazioni sulla effettiva situazione socioambientale del soggetto richiedente. Per quanto riguarda invece i buoni spesa c'è tempo fino al 13 luglio per accedere alla seconda tranche dei fondi. È un atto doveroso che noi compiamo per venire incontro ai diritti di tutti i cittadini, di tutti i miei concittadini. Sarà possibile, eleggendo domicilio presso un avvocato di strada, questa associazione benemerita che si occupa degli ultimi, delle persone in difficoltà, eleggendo domicilio, lì ottenere il documento di identità che mette nella possibilità i vari richiedenti di essere suscettibili di ottenere tutti i benefici previsti dalla legge per i concittadini e per i cittadini che siano in possesso del documento di identità. Dico per tutti il reddito di cittadinanza, ad esempio. Quindi noi siamo arrivati a questa determinazione finale con successo, con grande trasparenza, devo dire, che passando per gli avvocati di strada sia una certezza che le cose vadano nel senso giusto. I 300 mila euro messi a disposizione dei miei concittadini che potranno redigere la domanda avvalendosi di un CAF oppure andando, cioè sempre in un modo telematico, per chi ha difficoltà con il computer vado in un CAF e si fa aiutare e le domande arriveranno e saranno esaminate tempestivamente.